Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Robido e oggi proveremo a fare uno spacchettamento epico. Detto anche, userò 20 chiavi dorate per aprire la cassa e vediamo un po cosa salta fuori e se ne vale la pena. Se questo video vi piacerà, proverò anche a portarvene altri come 50 chiavi dorate, 100 chiavi dorate oppure differenze tra livello 1 e magari 65 caos 11. Detto ciò partiamo. Vedete che ho l'inventario completamente vuoto col massimo degli slot nello zaino e se guardate in basso ho 20 chiavi dorate. Partiamo. Prima cassa. Siamo ovviamente a biome 11 come vedete sotto il mio livello 60c. Prima cassa. Oserei dire non bene. Vediamo di non aver preso niente che vada ad aumentare la fortuna. Perfetto. Niente che aumenta la fortuna. Continuiamo. Seconda chiave. Ancora niente di interessante. La cosa importante è che rispetto a Borderlands 2, la cassa delle chiavi dorate ha una possibilità di dare anche leggendarie. Appunto, come stavo dicendo. Quindi non ci interessa molto le viola, ma vediamo un Hunter Seeker consacrato. Una consacrazione decente. Un ottimo inizio direi. Continuiamo. Apriamo la quarta cassa. Niente di interessante ancora una volta. Apriamo la quinta. Continua a non esserci nulla di interessante. Vedete che le leggendarie sono abbastanza rare. Anche a modalità caos. Non aspettatevi delle casse piene di leggendarie, perché beh, non è così. Quindi continuiamo a aprire le casse. Apriamo la settima. Abbiamo finalmente la seconda leggendaria. Un shockereto per Zane. Diciamo che non è un granché, però è comunque una leggendaria. Vediamo come sta messo l'inventario. Possiamo aprirne un altro paio, più o meno. Andiamo quindi ad aprire l'ottava. Ancora una volta. La maggior parte sono scudi e reliquie. Le armi sono abbastanza rare, devo dire. Possono spawnare soltanto nella parte centrale, quindi... Se state cercando delle armi è abbastanza difficile. Terza leggendaria. E abbiamo una granata. La Tiantina IPT Hopper. Non un granché, devo dire. Inventario pieno. Adesso andiamo a vendere, per poi tornare qui. Intanto vi faccio vedere un'altra modifica, che dopo un pochino che la cassa è rimasta aperta, tutte le armi che sono le massili verranno droppate per terra e la cassa si richiuderà. Inoltre, se voi aprite una cassa, i vostri compagni di squadra, ovviamente solo se avete la modalità cooperativa, quella dove ci sono i loot diversi, vedranno il vostro loot, ma non potranno prenderlo. Almeno finché non verrà buttato per terra. Quindi, se noi adesso ci allontaniamo, vediamo un attimo se lo fa adesso o se faccio a mio tempo andare a vendere. Direi che possiamo andare a vendere. Dopo un pochino la cassa di solito si chiude. Andiamo quindi a vendere tutto quello che è nel nostro inventario, a parte magari le leggendarie. Terremo le leggendarie alla fine per fare una sorta di resoconto, diciamo. Perfetto. Vediamo un po', da 20 milioni, siamo passati a 26 milioni. Continuiamo. Vedete che sono state buttate giù le armi e la cassa si è richiosa. Controlliamo di non aver aumentato la fortuna. Perfetto. Andiamo ad aprire la decima cassa e siamo a metà strada. Addirittura delle blu. Direi abbastanza male. A questo livello, diciamo, 65 caps 11, io aspetterei solo e esclusivamente viola, non minore. Abbiamo la nostra quarta leggendaria. In questo caso, un bear trooper. Comunque, due granate e due mod. Non abbiamo ancora trovato armi leggendarie. Come vi dicevo, sono rare le armi in questa cassa, purtroppo. Andiamo a puntare alla dodicesima cassa, un'altra leggendaria. Ancora una volta, una mod e un'altra bear trooper. Continuiamo così. Apriamo la tredicesima. Ancora una volta, niente di interessante. Quattordicesima. Abbiamo una leggendaria e non è ancora una volta un'arma. Un'altra granata, un'altra clonina, anche Hunter Seeker. Questa volta con una consacrazione per orso di ferro. Un singolo, una singola arma, un singolo cecchino e basta. Male, male, male. Apriamo la quindicesima. Ancora una volta, niente di armi leggendaria. Ultime cinque chiavi. Vediamo se la cassa delle armi dorate ci vuole fare un regalo. Iniziamo ad aprire. Finalmente, la prima arma dorata. Alleluia. In questo caso, una Nemesis con consacrazione e orso di ferro. Penosa, perché le velocità di ricarica e destrezza sono penose. Però, è un'arma leggendaria. Almeno, è qualcosa, diciamo così. Andiamo all'inventario. Come è messo? Direi che possiamo andare a vendere. Abbiamo un singolo slot rimasto. Quindi, come prima, vendiamo tutto. A parte le nostre leggendaria. Vennuta una leggendaria per sbaglio. Andiamo a ricomprarla subito. Perfetto. Torniamo quindi alla cassa e apriamo le nostre ultime casse. Vediamo un po'. Scusate l'effetto sangue sullo schermo, ma dovuto ai cambi di HP tra le vari mod di classe che ho messo, non ci posso far molto. Andiamo a aprire la terza. Doppia leggendaria. Ma non è un'arma. Quindi, abbiamo ottenuto una Red Queen. Che non è un maccio, diciamo. E l'altra leggendaria è un Black Wall. Neanche questo malaccio. Abbiamo quindi le ultime due. Vediamo un po'. Oh! Questo sì che è un colpaccio. Uno Scourge. Uno Scourge con una brutta consacrazione. Beh, è comunque uno Scourge. Questo è un ottimo risultato. Finalmente. Infine, ultima apertura. Oh! Due Lanciarazzi di seguito. Un Tunguska. Con una consacrazione un po' meh. Per un Tunguska. Quindi prendiamolo. E abbiamo effettivamente finito. Andiamo quindi a vendere le ultime armi. E facciamo il resoconto della situazione. Perfetto. Quindi, partendo da 20 milioni, siamo arrivati a 33 milioni. I 13 di Aridion, devo essere sincero, non so da dove siano apparsi. Da 20 chiavi siamo arrivati a zero. No, ho ancora degli oggetti che non sono stati venduti per qualche ragione. Quindi aggiungiamo gli ultimi oggetti. Perfetto. Ricapitoliamo. 34 milioni, partendo da 20. E queste sono le leggendarie che abbiamo trovato. Quindi, abbiamo trovato due Bird Trooper, un Shockerete. Abbiamo trovato... Vediamo di dividere per tipo perfetto. Una Nemesis, uno Scurgio e un Tunguska. Abbiamo trovato un Black Hole, un Hunter Seeker, un altro Hunter Seeker, Hippity Hopper e Red Queen. Tutto sommato, quindi, abbiamo trovato tre mod di classe, quattro granate, uno scudo e tre armi. Per un totale di 11 leggendari su 20 aperture. Contate che più o meno ci sono di norma almeno sei oggetti nella cassa, 11 su 120 sono pochi. Sono molto pochi. E, soprattutto, pochissime armi sul totale delle leggendari. Quindi, io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi, nel caso non lo siete ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò, scrivetevi magari nei commenti qua sotto, se vi interessa che io faccia altri video di apertura della cassa delle chiavi dorate. E, sorpresa, qua c'è una mod amp che è andato a risoluzione bassa per qualche ragione. E adesso è tornato a risoluzione alta. Boh. D'ora di tutto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.